Gli obiettivi che avevo quando ero piccolino, nel mio primo campionato italiano assoluto, sono stati raggiunti con i sacrifici e cerco sempre di divertirmi il più possibile in palestra. Credo che fino a quando ci sia il divertimento e anche il fisico ovviamente per poter andare avanti, continuerò a farlo. Mi stancherò magari di fare le gare, di provare quella bella sensazione di stare in mezzo al pubblico, agli altri atleti, in quella situazione dove ti senti in forma, ti senti bene.